bella a tutti i forniters benvenuti e bentornati su LeonTube in questo video andiamo a fare l'incarico visita luoghi indicati o punti di riferimento in una sola partita come abbiamo detto nel riassunto i punti di riferimento sono tutti i posti che si trovano diciamo tra un luogo indicato che sono questi iscritti e l'altro ora noi andiamo a rotaie rischiose anche qui ad esempio la stazione vediamo che potrebbe essere un punto di riferimento eccolo qua infatti punto di riferimento di solito compare anche nella mappa in questo caso ce l'ha compare proprio col nome in questo caso invece ce l'ha segnato ma non ce l'ha fatto vedere o perlomeno io non l'ho visto adesso continuiamo ad andare in giro con la nostra auto basta atterrare in un posto dove ci sono auto quindi anche al nitrodomo prendete un auto poi andate in giro per la mappa ma se riuscite ad arrivare avanti con la partita probabilmente riuscite a farla anche senza troppo impegno ora qui andiamo a rotaie rischiose quindi facciamo il terzo adesso vado qui a eliminare gli scagnozzi anche se questi sono forti per raccogliere le loro armi vediamo se ce le conta intanto dovrei fare anche ok ottima arma perfetto avrei dovuto eliminarli con cucine pesante per fare anche l'altro incarico intanto così qua devo andare a raccoglierli ok questo qui vedete che ce le segna ok andiamo qua a vedere se ci va il quarto posto eccolo qua il quarto ok andiamo a fare vediamo se ci segna anche l'altra arma siamo a otto questi però no non siamo un boss si sempre otto perfetto adesso mettiamo ci danneggiamo avversari con fucile pesante ecco fatto adesso andiamo nell'ultimo punto giusto per completare la missione ragazzi vediamo se la base ce la conta mi raccomando ragazzi un bel mi piace iscrivetevi al nostro canale ok no questi non ce l'ha contato se poi prendiamo gli stivali ragazzi ah si ce l'ha contato che questo se e poi atterrate qui prendete gli stivali ancora più easy perché poi volate con gli stivali di ironman e quindi fatene un battere d'occhio è tutto per questo video ragazzi ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti